Dopo la falsa partenza dello scorso 23 marzo, questa mattina ha preso avvio il processo Coingas Extra Multiservizi, procedimento che vede 13 imputati con accuse di vario tipo, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, dall'ingiusto guadagno al favoreggiamento, tra loro anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'assessore Alberto Merelli. Presente in aula questa mattina unicamente l'ex amministratore unico di Coingas, Sergio Saderini, e l'attuale presidente Franco Scortecci. Perché oggi c'era un'udienza dove io ero stato convocato e mi sono ripresentato, niente di più. Nel corso dell'udienza preliminare, il Gup Claudio Lara ha ammesso la costituzione di parte civile dei 15 comuni soci Coingas. Il comune di Arezzo, nelle scorse settimane, aveva invece deciso di non costituirsi e di valutare eventuali azioni civili. Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che vi sia, diciamo così, in ipotesi, una commissione di un danno diretto anche nei confronti dei singoli soci che fanno parte del consenso sociale di Coingas. Nel caso in cui fossero ritenute fondate le ipotesi dei capi di imputazione, appare evidente che i soci avrebbero subito un danno diretto, perché comunque un ipotetico ammanco sostanzioso ricadrebbe al carico dei singoli comuni, o come divisione di utili o come servizi non corrisposti, comunque sono situazioni evidentemente comprensibili. Il procuratore Roberto Rossi ha poi fatto richiesta per l'integrazione di un ulteriore capo di imputazione nei confronti del presidente di Estra, Francesco Macri. Al numero uno della Multi Utility, la procura adesso contesta anche il reato di peculato. I suoi legali chiederanno l'accesso agli atti e valuteranno come agire di conseguenza. L'udienza è stata aggiornata a martedì 27 aprile, quando inizieranno ad essere ascoltati i legali degli imputati. Con tutta probabilità sarà anche l'udienza dove verranno valutati riti alternativi. L'avvocato di Sergio Saderini aveva già annunciato che richiederà il rito abbreviato per il suo assistito. Lei chiederà un rito alternativo? Ancora non sappiamo niente. Quindi, in base al calendario stilato dal GUP, l'8 giugno dovrebbe essere la data della decisione sugli eventuali rinvii a giudizio. Si prospetta abbastanza lunga, le questioni da decidere sono tante, per cui il giudice ne ha previste tre e spera di arrivare a conclusione appunto i primi di giugno.